Siamo passati da 72.854 accessi al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo registrati nel 2015 a 75.637 nel 2016. Sono numeri in aumento quelli presentati nel corso dell'Assemblea Sindacale dei Lavoratori del pronto soccorso aretino, assemblea alla quale hanno aderito tutte le sigle sindacali. Le nostre richieste sono quelle di mettere in sicurezza i lavoratori nel loro esercizio perché anche visto il livello nazionale dove più volte è scoppiato qualche polemia rispetto a quelli che sono gli accessi al pronto soccorso, credo che anche nella nostra azienda ci siano dei problemi. La ricettività del plesso ospedaliero postiletto, dotazione organica del pronto soccorso e organizzazione del pronto soccorso. Queste sono le tematiche che probabilmente l'Assemblea chiederà rapidamente da affrontare a desideri. Dopodiché una grande domanda su questo territorio che ha il più alto numero di case della salute di tutta Italia. Evidentemente le case della salute non intercettano il bisogno di assistenza. O se ripensa il sistema di casa della salute o se rinforza, come hanno stato tutti i dettagli generali degli anni, il sistema del pronto soccorso. Un'assemblea che arriva dopo quello che è stato definito il lunedì nero, il 9 gennaio 2017, giorno in cui centinaia di aretini si sono rivolti al 118 e hanno fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. In questo periodo i lunedì sono tutti i lunedì neri, l'abbiamo ormai visti nei mesi passati, e quindi dobbiamo preparare, diciamo anche cambiare un modo di organizzazione per dare risposte a questo tipo di situazioni. Cioè non sono successe maxi emergenze, è una situazione che si ripete, quindi questa cosa necessita di essere valutata e trovata delle soluzioni. Sul tavolo ovviamente anche le nuove misure annunciate dal direttore generale dell'Ausla Toscana Sud-Est Enrico Desideri, otto posti letto in più e altri cinque infermieri per far fronte all'aumento di accessi al pronto soccorso. Questo potrebbe essere una risposta, ma dovremmo anche valutare quello che dobbiamo fare in pronto soccorso per dar fronte a questo tipo di necessità. Abbiamo una discrepanza tra giorno e notte di personale infermieristico, questo a noi ci mette in difficoltà. Di quanto unità si parla? Attualmente noi quest'anno abbiamo una carenza di due, tre persone, quattro, cinque persone durante l'anno, va bene, che sono state superiti con agenzie interinari, però è una carenza costante. A turno abbiamo una persona in meno di giorno, quindi invece delle soluzioni organiche di 12 persone siamo passati a 11 per lunghi mesi, molti mesi durante l'anno 2016.